Una manifestazione che in passato ha visto vincere il primo Pelé, ma anche Gianni Rivera, ora la storia del Toro. Beh sì, direi che è un grande onore per noi di essere accostati a questi grandissimi campioni del passato che hanno fatto la storia del calcio italiano e anche internazionale, quindi è un grandissimo onore per me e per il Toro in questo momento anche veramente speciale. Direi bene, siamo soddisfatti, contenti e ovviamente abbiamo allestito una squadra che speravamo potesse dare dei buoni risultati quali sta ottenendo, direi che sta andando quasi oltre le aspettative, quindi molto bene, un attacco fortissimo che però come sempre l'attacco non è da solo, l'attacco funziona se è servito bene, se ha un buon sostegno anche della difesa quindi poi alla fine è una squadra, però l'attacco avere fatto 29 gol vuol dire essere mi pare la sesta squadra a livello europeo dopo la Roma in Italia e poi credo Real Madrid e Barcellona e forse PSG e Liverpool che ne ha 30 quindi siamo i sesti per cui non male. Noi Belotti comunque sia abbiamo già un contratto con lui fino al 2020, però stiamo pensando anche a prolungarlo ulteriormente anche perché il giocatore lo merita, è un giocatore che al di là delle qualità tecniche e le qualità realizzative è anche un ragazzo veramente straordinario, proprio che mi raccontava il papà o la mamma che tutte le volte che fa gol la nonna gli dà un piccolo premio e lui lo prende volentieri il premio della nonna si è gradito tanto quanto il premio che gli do io, anche se il mio è molto più grande ma anche io che ero affezionatissimo a mia nonna quando ricevevo un premio da lei era speciale indipendentemente dalla dimensione Grazie a tutti